Al di là delle mura cittadine si estendeva lo spazio riservato ai morti, la necropoli. Vista dall'alto, questa zona appare simile a tanti altri paesaggi dell'Alto Lazio, ma sotto questo manto verde che circonda Cerveteri si nasconde un vero tesoro. Sono migliaia di tombe etrusche scavate nel tuffo che si sono conservate per oltre 2000 anni. Sotto il terreno ecco cosa si nasconde. Questi ambienti straordinari e inquietanti sono arrivati fino a noi, ancora in tanti. Qui i corpi dei defunti venivano portati per il loro viaggio nell'aldilà. Ecco cosa fecero. Scavarono un lungo canalone e i suoi due lati cominciarono a scolpire delle strutture circolari destinate a ospitare le sepolture. Tutto quello che vediamo, quindi, non è stato costruito, ma scavato nel tuffo, così come avviene quando si scolpisce un basso rilievo. Nacque così una specie di piccola città scolpita, la città dei morti, poco lontana dalla città dei vivi. Queste strutture circolari erano i tumuli, costituiti da un tamburo di base, coronato da una cornice e ricoperto da una calotta di terreno erboso. I tumuli erano sepolture monumentali, visibili da lontano e destinate ai membri delle famiglie più importanti. In certi tumuli si vedono ancora gli scalini che portavano a uno spazio dove probabilmente si praticavano riti e sacrifici. Col tempo, in mancanza di spazio, si cominciarono a scavare tombe in profondità, scendendo sotto il livello stradale. Sono i cosiddetti ipogei. Si calcola che vi siano intorno a Cerretri decine di migliaia di tombe, tra grandi e piccole, molte certamente ancora da scoprire. Qui vediamo la tomba della capanna, una delle più antiche, realizzata nel VII secolo a.C. Ricorda la forma delle abitazioni più semplici che caratterizzavano allora la città dei vivi. Poi, con il passare del tempo, le tombe divennero sempre più articolate, seguendo il modello architettonico delle abitazioni delle città. I morti erano deposti in camere, alle quali si arrivava attraverso un lungo corridoio. Ricchissimi corredi accompagnavano le spoglie del defunto. Insieme agli oggetti personali, talora in materiale prezioso e importati da paesi lontani, si accumulavano intorno al letto funebre le scintillanti armi di bronzo e il vasellame da banchetto. L'architettura degli interni era diversa da città a città. Nel sud dell'Etruria, a Cerveteri, la camera, interamente scolpita nel tufo, riproduceva l'interno delle abitazioni dei vivi, con le travi del soffitto, le colonne con i capitelli nell'atrio, i letti, i troni. Completamente ricoperte da freschi, dai colori sgargianti, erano invece le tombe dipinte di Tarquinia e di altre città dell'Etruria, che esibivano scene di banchetto, di danza, di giochi e di allusioni all'oltretomba. Nel VI secolo a.C., l'aldilà era immaginato come un'isola felice. Dopo il V secolo, i defunti sembrano raccogliersi nel palazzo di Hades, intorno alla coppia degli dèi inferi. In età arcaica, le necropoli assumono un aspetto più ordinato. Le tombe, ora configurate a dado, si allineano lungo le vie sepolcrali. L'esempio meglio conservato è quello del crocifisso del tufo a Orvieto, che sembra imitare la pianta di una città. Come nella città, ogni tomba appartiene a una famiglia e il nome del capofamiglia è iscritto sull'architrave della porta. Ma questo sarcofago è solo uno degli innumerevoli tesori emersi dalle tombe etrusche e oggi sparsi nei musei di tutto il mondo. Sulle pareti sono raffigurati strumenti e utensili della vita quotidiana. Una corda, coltelli, un ventaglio, mestoli, collane d'ambra. Gli etruschi avevano creato una società in cui l'arte, il piacere e la bellezza avevano un ruolo di primo piano. Dagli scavi sono emersi oggetti di rara fattura e impressionante modernità. Questo è un astuccio per il trucco, uno specchio finemente intarsiato, un paio di sandali snodabili, una rete per il letto e perfino una protesi dentaria in oro risalente a oltre 2500 anni fa. Proprio l'arte orafa è uno dei fiori all'occhiello della civiltà etrusca. Lo testimonia la collezione di gioielli ritrovati nella famosa tomba Rigolini-Galassi e conservati ai musei vaticani. Quello che stupisce è la straordinaria abilità delle lavorazioni, evidente in questi diademi in foglia d'oro che rivestivano il capo dei defunti. di difunti di gana a un'impresa di gana a di gana a esistono di gana